musica 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 ok riprendiamo il video e penso che devo essere un poco più veloce allora qui abbiamo X qua c'è Darkrai che vi faccio vedere dopo posso altre eccosa musica questa è bella questa trovate in Dorustin vision X Figo ah questa trovate nell'ultimo team e questo giappone sa che non lo so che c'è poco vabbè qua passiamo le full art non X due Reshinon un Zetron due Tundurus e due Tornadus eh queste le scambio facilmente si però sempre dopo Rising Fist qua c'abbiamo delle full art promo si trovano nelle infezioni figali altre full art full art queste di Novo Vittorius e poi cominciano le full art trainer c'abbiamo Iris mandata da poche shiny bell mandata da poche shiny e qua il trio di ehm trainer full art di Flashfire questa è italiana trovata nel box questa è inglese comprata da Ebay e questa pure comprata da Ebay questo è stato un affaro bello qua invece andiamo alle fuori serie ehm ci sono shiny gold star cristallino insomma questa che vabbè lo sapete tutti chi segue Charme lo sa questa bella pure Zoro Ork che bello le mie prinsioni trovate prima e ultimo questa me l'ha mandato ragazzi solo tramite FCBM quello che vi parlavo di cui vi parlavo nella scorsa parte ehm infatti come vi ho detto mi hanno dato un'infinità di carte sto Archeops bello billu billu poi qua alcune reprint citer surfing picochu Charmander fuori serie fuori fuori serie Charmander fuori serie box stopper adumeril box stopper ehm rotom calore lo taglio rotom gelo bellissimi sti rotom bacon shiny anzi e poi qua abbiamo alcuni Arceus qua due shiny sui con shiny e ehm juxy shiny sui con blue shiny questo che è fuori serie forse pure box stopper non ricordo questa me l'ha mandato poche shiny qua invece abbiamo le prime che le ho quasi tutte me ne mancano davvero poche tipo di earth gold mi pare che le ho tutte boh vabbè comunque london questa carta per me è importantissima molto molto importante eh poi si mia o le altre questa è doppia yeah molto bella le prime queste è sicuramente tra le mie preferite assieme ad absolute o un chiamatelo come quelle di camara qua ci sono le promo di lega tutte le energy ma non c'è quell'acqua me la sono scordata ah si vabbè perché le giocano il mazzo che lol qua alcune promo di black and white sempre di lega qua c'avevo lilly pop e l'ho dato eh questa è del regionale eh victory road ah no battle road che adesso non ci sono più questa è non mi ricordo sono le quelle nuove che ci sono cioè sono quelle che sostituiscono la battle road non mi ricordo come si chiama questo campionato regionale cittadino e questa è una promo di hs mi pare boh lo ricordo bene no di platform vabbè qua invece ci sono le ex vecchie swampert caputops quest wiggleton e rifle e poi abbiamo abbiamo sto morendo di sonno ok le leggende ma è la stessa cosa si è la stessa cosa si è la stessa cosa vabbè le vedete queste due essendo non complete le scampo vado allora adesso vado allora adesso ehm acepec acepec è pure sbagliato vabbè eh si vi faccio vedere dopo niente come si chiama lame di cristallo si scudo di cristallo ma expose qua ci va no non c'è shaming qua ci va ricerca computerizzata che un momento che la prendo where is my computer search where 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 ah che scemo queste no oddio mi sto confondendo ok cosa sto facendo mi sto confondendo e non poco seriously ok qua ci abbiamo ricerca computerizzata ecco la computer eh si la berruggia della computer basta basta quindi diciamo che evocate eh no perchè ho sbagliato oppure a fare una cosa ok a posto allora ricominciamo a continuare scambia pazzo master master ball e super scoop happy qua ci abbiamo invece le livello x ma nemmeno i miei due bei shaming belli belli oro dei mazzi gelatino uno di noi altre oro dei mazzi trainer kit qua sono alcune quelle del mctone ah no ah no c'era questa che c'era questa pagina guarda ah queste sono yeah qua eh cose giapponesi reparto giappo questo bello bello qua ci abbiamo le holo di xy xy qua manca aromatis forse no è trevenant ed è qui trevenant e ce l'ho messo da parte ok poi di qui invece abbiamo le altre dove manca qui aromatis ma invece le holo di flash fire che mi pare di averle tutte forse non ricordo qui invece le holo di rising fist ok poi qui finisce allora non è ancora finito il video 9 pensavate di esservi liberati di me invece 9 perchè ancora ci sono un bel po' di cose da frivider ok ok qua ci sono intanto questo si può levare quindi gentilmente se te ne vai boom thank you very much ok qua ci sono un po' di cose un po' di x dark cry uno di dark explorer uno di legendary jessers due veltal che non do xernias rosy ram nero che non do mu x che ovviamente non do e questo è bellissimo che non do ah e poi ci ho aggiunto anche dusk north shining che vabbè si è carino poi 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 come carta parte sempre che avevo nei massi ci sono le due tropical beach che forse sono vabbè si sicuramente alcune delle carte più rare che ho se non le più rare che vi ricordo la stampa illimitata di queste carte e le danno sole mondiali ok direi che possiamo continuare vi faccio vedere velocemente questo raccoglitore che dove ho un po' di olo quasi tutte mandate da poche scene queste si è abbastanza veloce vi faccio vedere che garbodor è poi perchè non finisce qui aspettai che vado a prendere un altro raccoglitore altro raccoglitore dove metto i set di xy ci sono da ci sono appunto holo full art ed ex allora cominciamo ci vediamo subito benuseus chesnaut chesnaut benivinta google atti che ho del foxhole talon flame blast toys make a blast toys labras grigio grigio e fai e molga edox tremenante che ho questo reverse qua ci dovrebbe stare oddio come si chiama? punka bueh non ricordo non ricordo più il nome della zucca grande vabbè ripirio ripirio con un genin qua ci dovrebbe essere zorak che mi manca qua eventual che ho e schermo di che nanau nanau qua agislash che mi manca pure armatiss e l'urpa qua ci va xxernia sex che l'ho già fatto vedere poi si vabbè furfu quabbè trainer cosa che non mi interessano e poi le full art venusaur blast toys emolga qui ci andrebbe xxerniax che vi ho fatto vedere a parte flash fire questo shift rio reverse qua ci andrebbe regia charizard mega charizard pyroar roa roa milotic magneson toxi croc e dusk noir roa reverse eeeh after chi c'è florges carving mega charizard the joady girl eeeh gutra che mi manca è l'unica carta che mi manca praticamente del set cioè del set esclusa l'ex qua ci andrebbe ganga scambio mega ganga scambio eeeh vabbè non c'è più niente l'unica ex full artico è questa poi le 3 ve li ho già fatto vedere le 3 trainer e qua ci sono cose che scambio questo non lo scambio eh giù le mani da questo si quindi sempre dopo e qua dritta al centro che non so se d'apri boh non lo so vabbè eh ok così finisce la mia coldation che non è tutta questa e anche di più perchè eh ci sono altre carte che oddio che ancora devo sistemare però mi secca troppo quindi appena avrò voglia forse di sistemare vabbè ehm mi raccomando bel like continuate a seguirmi perchè prossimamente ci saranno tanti bei video belli 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 eh quindi lol lol eh quindi vabbè niente alla prossima the charm ciao